detenzioni e fini di spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione di arma clandestina. I carabinieri durante un servizio di controllo finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione legale di armi hanno perquisito l'indagato rinvenendo nella sua disponibilità cocaina per circa 4,50 grammi, hashish per 2,30 grammi, un telefono cellulare utilizzato per attività delittuose, un fucile calibro 12 con matricola brasa caricato con due cartucce, nonché tre cartucce calibro 12 e quattro poietti di calibro 303. L'autorità giudiziaria di Vallo ha disposto gli arresti domiciliari in attesa di convalida dell'arresto.